Il migliadino, il migliadino, fammi guardare, perché l'avevano fatta qualche getta, perché l'avevano fatta, l'avevano fatta ancora in settembre 7 euro, e poi 6,70 migliadino, e poi l'avevano fatta con Renato? Eh sì, ce l'hai detto a Giovanna, o va a Giovanna sub, perché io stavo sotto, almeno se lo manda a Renato, o va io, o siamo siamo, dai capito. Sì, non abbiamo un caccio, abbiamo arrivato alla fine dell'aprile, che è un caccio. Giovanna mi chiede solo i cosi che mancano, fatti anche la giaporta, come ho regalato la giaporta, non si preoccupa dei pagamenti, i cosi che servono a fare due cazzo, mi diceva ogni minuto, mi dice. Eh sì, ma tu un cazzo, te lo dici, vedi che a casa non ho pagato. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh Grazie a tutti.